Gentili telespettatori, buona giornata. Piero Sansonetti non è propriamente un uomo di destra, niente affatto, è proprio dall'altra parte. E ha assistito anche lui, come tutti noi, a fanpage col suo direttore lì tutto, direttore, direttore, lì la piazza pulita a pontificare, servizio, tre anni che pediniamo, abbiamo scoperto, abbiamo visto, Formigli che fa finta di essere imparziale, che cerca di dare spazio a tutti, ma Formigli non è imparziale, e assolutamente di sinistra, e assieme a fanpage, hanno montato su questa cosa per colpire Fratelli d'Italia e la Lega, per discreditare. E' giornalismo questo, è giornalismo prestato alla causa politica, è il giornalismo che aiuta la sinistra, non in grado di racimolare voti con idee che non ha, allora arrivano in aiuto questi investigatori giornalisti che istigano all'illecito per sbandierare e cercare di modificare quella che è l'opinione pubblica. E così arriva questo Piero Sansonetti che, uomo di destra, non è affatto. E dice, caspita, da giorni il partito di Giorgia Meloni è accusato di ammiccare con nostalgici del ventennio, finanziamenti illeciti, è tutto per colpa di un filmato di un giornale online. Dice, ma che cos'è? Tutti questi nostalgici, questa ideologia, se non questa roba qui, dice. Levare diritti civili alle persone, colpire i cognomi, le razze, ma chi è Forbigli? Dice il direttore del Riformista, intervistato dal Secolo d'Italia. Dice, io faccio il giornalista da 50 anni e proprio all'Unità, giornale principe della sinistra, l'Unità, dice, mi hanno insegnato che fare il giornalista significa dare le notizie, cercare di scoprire che cosa era successo, non fare processi, istigare all'illecito. No, prendi sti soldi, dai, pensatevi, cinque anni perché quello che dice quello lì, il barone, dice, ma io questo giorno finto manager lo conosco da cinque anni, si è avvicinato a me cinque anni fa, cinque anni fa, cinque anni fa che questo finto manager londinese continua, tieni, e tieni sti soldi, e dai, e prendi sti soldi, ti do questi soldi, e prendi diecimila, prendi ventimila, e dai, e prendi, cioè, immaginatevi uno per cinque anni che vi vuole dare a forza, per forza dei soldi, che come si chiama questa? Istigazione a commettere un illecito. Questo è tentare, sono delle manovre che cercano di colpire dei partiti, sono le braccia dei partiti che non riescono a prendere voti, arrivano questi giornalisti che cercano di smantellare questi partiti, la loro credibilità. Avete visto quell'altro consigliere regionale in Sicilia di Fratelli d'Italia che volevano dargli già da aprile una tangente di cinquantamila euro? Lui li ha denunciati ai carabinieri. Una fantomatica azienda che doveva fare un super concerto e voleva dargli il dieci per cento di cinquecentomila euro, il cinquantamila euro, per avere i permessi per fare a Taormina questo megaconcerto. Naturalmente quello se prendeva i soldi, poi il concerto non c'era più, ma scattava. Ecco, a me anche quella è sembrata una trappola. Insomma, ci sono giornalisti, presunti tali, che cercano di incastrare, di stigare partiti all'illecito, al finanziamento illecito. Pertanto non è un giornalismo investigativo, e questa è un'altra cosa. Cioè tu non vai a cercare di scoprire la verità. Il giornalismo investigativo dice voglio scoprire se veramente quei soldi sono stati pagati. Allora investigo se veramente c'è stato questo pagamento tra altri soggetti. Ma non che il giornalista si finge un imprenditore e continua a dirti prendi sti soldi, e dai per cinque anni e prendi sti soldi, dai lo devo beccare perché devo fare il programma e rovinargli il partito. Perché questi hanno rovinato la credibilità di Giorgia Meloni che per trent'anni ha costruito il suo partito, facendo un giornalismo istigatrice, non investigatore, istigatrice. E qui Piero Sansonetti, ex Unità, dice proprio all'Unità mi hanno insegnato che fare il giornalista significa dare notizie, cercare di scoprire cos'era successo, non fare processi. Dice ma che un giornalista convoca un capopartito per farlo abbiurare, ma siamo matti. Si vede in modo evidente che Meloni è una dirigente di destra, della quale io non condivido nulla, ma che non c'entra nulla, che non c'entra nulla con i nostalgici del ventennio. In Fratelli d'Italia non c'è autoritarismo, non c'è, non ci sono altre cose, e comunque non è Formigli che decide se un partito è fascista o no. Dice non solo perché il giornalista spiega che non è proibito avere le nostalgie, uno può avere nostalgie anche di Stalin, dice. Dice poi Sansonetti hanno i magistrati anche poi dalla loro parte, pensano di poter fare quello che vogliono. Ovviamente secondo voi si sono posti troppi problemi a fare questa investigazione, a istigare all'illecito. Dice tanto, come dice Sansonetti, i magistrati sono dalla loro parte. Avete visto partire qualche indagine o qualche avviso di garanzia verso fanpage o questi giornalisti per aver fatto alcune cose? Niente. se lo avesse fatto un giornale di destra contro il PD, immaginate un po', o contro l'EU, che cosa sarebbe successo? Quante indagini sarebbero partite contro quei giornali? Non contro le persone dei filmati, ma contro quei giornali. E poi dice la sua conclusione, dice il giornalismo ormai fa pena. Io ho chiesto al mio editore di fare il riformista per questo, perché oggi i giornali sono una robina al servizio del cervello, all'ammasso. Ora tutti gridano al pericolo dei nostalgici per conformismo, ma io dico nel 2021, con tutti i problemi che abbiamo. Dobbiamo obbligare la Meloni a giurare alcune cose. Ebbè, purtroppo non solo il giornalismo è diventato una robetta, anche la politica è diventata una robetta, un'operetta. Abbiamo una politica da operetta e un giornalismo da teatrino. Immaginatevi che bella accoppiata. Grazie a tutti e arrivederci.